Bene, io vi do il benvenuto, sono particolarmente lieto e orgogliosa che abbiate scelto Castelmaggiore. Le ragioni probabilmente sono di tipo immobiliare e logistico, ma a me piace pensare che Castelmaggiore sia stata anche scelta per la vivacità di questa città e anche l'accoglienza che oggi vi viene riservata. Noi stiamo lavorando molto per far crescere il nostro paese, credo che il contributo che la Fortitudo, scegliendo appunto Castelmaggiore, ci sta dando sia importante in questo percorso, quindi è un lusso per Castelmaggiore, la Fortitudo, non c'è bisogno che lo dica a voi, è una parte importante dello sport bolognese e quindi è un altro tassello che nella nostra città ci aiuta a emergere e a rafforzare l'appeal del nostro territorio, per cui grazie per questa scelta. Vedo anche una grande sovraecitazione dei cittadini e quindi sono certa che anche voi vi sentirete ben accolti da questo territorio e ovviamente l'amministrazione è lieta a parole, ma saremo anche lieti di trovare qualsiasi forma di collaborazione per far vivere insieme questa città. Quindi benvenuti e in bocca al lupo per tutto quanto. È il mio primo intervento da Presidente onorario della Fondazione, quindi sono molto orgoglioso di farlo oggi. Abbiamo una nuova casa e questo è un bellissimo segnale. Avere una casa vuole dire essere una comunità, essere una squadra, voler raggiungere obiettivi molto alti e credo che questo è il miglior segnale che noi possiamo dare in questo inizio della fondazione. Io ringrazio Melloni, tutti coloro che aderiscono a questa avventura, a questa nuova avventura. È chiaro che la fortissuto rappresenta una parte importantissima di Bologna e della sua area metropolitana. Quindi essere la canzone maggiore per noi è un onore e a questo punto non ci resta che fare un bellissimo campionato. Quindi siamo solo in mano bocca da questo punto. Noi ce l'abbiamo messa tutta. A questo punto voi ce le dovesse mettere ancora di più. C'è il video. E noi vi staremo vicino con voi, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, nel bene e nel male. Spesso più nel male che nel bene. Però comunque per il calcolo delle probabilità adesso tocca al bene. Quindi mettetecela tutta. Noi ce la metteremo tutta per starvi vicino, per fare di questa squadra, non solo una squadra vincente ma quella squadra che ha sempre avuto il grande cuore di portare avanti lo sport per la sua bellezza e per i suoi valori. Quindi quando andate in campo andateci per vincere ma andateci anche per mantenere alti i valori della fortissuto che sono valori buoni, valori veri. E questi ve li dovete portare nel cuore. Noi ce li portiamo nel cuore con una nuova casa bellissima con la famiglia Danardi che ci sta vicino, tanti altri imprenditori e gente comune che ci sta vicino per essere sempre la domenica a prasso, per guidare forte, forza fortissima. Tra i miei cittadini sovra in città ci sono il Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore che si sfregano le mani. Venite qua nel campanone. Ecco la telecamera.